Anticipazioni Beautiful, puntate da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2016 Liam bacia Queen Lunedì 11 luglio Eric cerca di distrarre Brooke invitandola a casa sua insieme a Maya, Rick e Nicole per festeggiare l'arrivo del loro bambino Zende però preferisce restare a casa e qui Sasha cerca in tutte le maniere di sedurlo ma il ragazzo rifiuta categoricamente le sue avanze Martedì 12 luglio Eric riesce a restituire il sorriso a Brooke mentre Bill tenta in tutti i modi di restituire alla moglie la serenità persa Liam inizia a svegliarsi dal torpore ed ha come la sensazione che qualcuno lo stia attendendo Queen, per farlo restare, mente dicendo al ragazzo di essere sua moglie Mercoledì 13 luglio Queen dice a Liam che lei si chiama Eve, mentre lui Adam Il giovane Spencer si sente amato ed accudito, quindi bacia quella che crede essere sua moglie Giovedì 14 luglio Liam sente di amare Queen, ma avverte che c'è qualcosa di strano in quanto sente che qualcuno lo sta aspettando Wyatt intanto è innamorato di Steffi e quindi chiede alla presidente della Forester di sposarlo Venerdì 15 luglio Deacon si reca nello chalet di Queen e qui la donna gli racconta che Liam ha perso la memoria e che lei lo sta tenendo a casa per favorire la frequentazione del figlio con Steffi Steffi confida al fratello che sta frequentando Wyatt e che lui le ha chiesto di sposarla Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti di Beautiful e tutte le altre SOP Iscriviti al canale